Questo esame svilupperà la realizzazione del semplice. Molto semplice. Non si può amare una persona che non si conosce. Se non conosci la persona non puoi amarla. Lo scopo della conoscenza è la conoscenza di Veda. Noi non studiamo i Veda, ma lo Srimambhagavat e la Bhagavad Gita che hanno lo scopo di conoscere Krishna. Quindi non è arida fino a se stessa questa conoscenza. Mataji dice che non possiamo amare una persona se non sappiamo questa persona. Quindi i Veda, i Srimambhagavat, i altri scrittori hanno il objetivo di sapere la persona. Quindi in questo modo possiamo amare. Quindi questa conoscenza non è strana o strana? No! 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 Di quanti anni mi sono occupato di conoscere, quando uno finisce che conosce tutto, conoscere non è sviluppare una relazione. Perché in realtà non ti conosco. Quando ti conoscerò veramente, allora svilupperò una relazione. Giusto o sbagliato? Ma quando sviluppo una relazione, allora ti conoscerò. Sì o no? Quando sviluppo una relazione con te, allora ti conosco. Giusto o sbagliato? Conoscere va molto bene. Ma quando sviluppo una relazione con te, allora quando sviluppo una relazione con te, non ho più tempo per semplicemente conoscerti. Sviluppo un feeling con te, faccio delle cose con te, sviluppo un sentimento. pensi a questo punto. Quando ci sono i dubbi, allora dovete conoscere. Conoscere significa ho dubbi. Questo. Queste sono cose della vita di tutti i giorni, dice Marash. Sì, proprio la vita di tutti i giorni ci insegna un amore diverso da quello spirituale. L'amore materiale è veramente l'opposto. Questa è una cosa diversa. Questa è una cosa diversa. Questa è una cosa diversa. Questa è un argomento diversa. ne parla Prabhupada. Arjuna e Krishna hanno una relazione divina. Non era come un materialismo, ma la relazione è anche un materialismo. però era una relazione. Cosa vuol dire divino? Cos'è divino? Cosa c'è di divino nel vostro corpo? You senso. L'anima è l'unica cosa divina. Tutto è temporaneo, tutto è temporaneo, la mente, il corpo fisico, i sensi, tutto cambia e quello che cambia è materia. L'unica cosa divina è l'anima. Dovete sviluppare una connessione divina. Questo si chiama Abideha. Cosa vogliamo dire con Abideha? Che non dimentichiamo che il mio Se vuol dire Abideha. E cosa è Prayogana? Nella stessa pagina, Lui dice, attraverso la pratica devozionale, tutte le anime viventi possono sviluppare la loro forma, la svarupa. e Lui può fare la svarupa siddhi, il mondo lo vede. Questo è Prayogana, cioè lo scopo della vita. Noi ci dobbiamo dare da fare per lo scopo della vita. Se non ci diamo da fare per lo scopo della vita, allora? Allora è come non avete scopo. Se chiedete a uno studente, al vostro figlio o al bambino, se sei tuo padre, e se chiedete al vostro figlio o al dottore, cosa vuoi fare? Se voi chiedete a un bambino che si studia da dottore, cosa vuoi fare? E lui vi dirà, io voglio diventare dottore. Oppure io voglio diventare ingegnere. Allora il padre diventa molto soddisfatto perché quel bambino ha uno scopo nella vita. E invece se un figlio vi risponde, io non so cosa fare. perché un padre rimane scioglato perché questo non ha stabilito lo scopo della sua vita. Giusto o sbagliato? Quindi, stabilire lo scopo della vita è importante. cosa fare? Qual è l'ultimo scopo della mia vita? Lo scopo principale della mia vita. Questo è il punto. Sì. Ma se uno la relazione non ce l'ha, chi ci aiuta? Stabiliscono la storia. Come facciamo? Se i libri non ci aiutano tanto, allora chi ci aiuta? Stabiliscono la storia. Se non ho una relazione. Se ti dici che i libri non aiutano tanto. Non lo ha detto. Non lo ha detto. No. Il libro è aiutato. I libri, certo che io. I libri ci portano qui. I libri ci portano qui. Perché te sei qui e perché Maraj è qui. Però se io ti chiedo, ti faccio una domanda. Ti vuoi sapere ogni giorno il tuo figlio? Ti sviluppi un'知識 su lui? Cosa fa? Cosa fa? Ti interessa di più vedere tuo figlio tutti i giorni oppure in maniera distante, insomma avere una conoscenza distante di quello che fa? I have one very nice. He is a very good past time and very nice things. You want to know about him? Dice, vuoi sapere se lui, le attività che fa? Vuoi sapere di lui? What you will say? I know everything. I am father of him. Dice, cosa ti viene da dire? Io sono padre, quindi so tutto. Tuo distanza lo vedete solo in Kartika con mio figlio. Ma io vivo tutto qui con lui. Mi sembra che Maraj dica, io il tuo figlio lo vedo solo a Kartika. Ma te ci stai tutto l'anno con lui, ci stai sempre, costantemente. Perché? Perché te con lui hai una relazione. In realtà, il tuo figlio è molto importante, mio caro. Perché io vengo in Italia? Dice Nur Maraj. Perché io vengo in Italia, dice Murumaraj. Perché te con il tuo figlio e il amore. Giusto o sbagliato? Solo per la relazione. Tutto è basato sulla relazione e la relazione rende devoto. Se voi leggete i libri di Prabhupada e ditemi se quello che dico è giusto o sbagliato. Tutti i libri di Prabhupada non posso leggere più di quattro righe perché vado in ecstasy. C'è proprio un passo in cui Prabhupada dice che uno se può leggere anche tutti i veda se non sviluppa questo amore Krishna Prema e questa relazione è inutile. Lo dice proprio chiaramente. Dice hai visto la relazione? Ne parla perfino Gesù della relazione. Dice se volete non ascoltate nessuno ma ascoltate Gesù. Ne parla. tutti i Mahajana parlano di Mahajana. Sambandha, Abhideha, and Prayojana. Tre parole. Dice se voi meditate su questi tre punti, portatemi qualsiasi libro e io vi faccio vedere che sono presenti in quel libro e nel libro parlano di quello. Come vedere? Come vedere? Come vedere? Come vedere? Maybe a hundred times when I read page four, then I see Sambandha, Abhideha, and Prayojana. Page four, a hundred times when I read and I share with others, then Prabhupada give mercy all three. Sambandha, Abhideha, and Prayojana is here. Marajana dice che, insomma, Prabhupada è come se l'avesse ispirato su questi tre argomenti, Sambandha, Abhideha e Prayojana, proprio quando lui ha letto pagina quattro dell'introduzione. In five times, ten times, I don't understand. Honest, I am telling you. E per un po' che lui aveva letto quel libro, quella parte della Bhagavad Gita non l'aveva capito. Conchè, il libro ha detto che magma, non l'aveva capito, non l'aveva capito, non l'aveva capito. Non l'aveva capito che l'aveva capito. Non l'aveva capito. Non lo so. Non c'è no. Non c'è no. Quindi cosa dovevo leggere? La perfezione è il mio obiettivo, come ottengo la perfezione e a quale punto devo ottenere la perfezione. Come ottengo la perfezione? Che me ne faccio della vita se non ottengo la perfezione della vita? Questa vita serve per sviluppare la perfezione. Siete d'accordo, fratelli? Perfezione per questo argomento. I have no doubt, I read, not for Krishna, I want to improve my perfezione, for that I am reading. I am reading for how to develop a relation with him. No, io devo leggere per sviluppare una relazione con lui. Come posso fare a impostarmi sulla coscienza di Abidea? La coscienza che sono un'anima vivente. Un giorno Maragio dice che stava pensando a questa cosa dell'anima vivente. e poi si arriva a me, Prabhupada dice a me, sono stato ispirato da Prabhupada. Prabhupada mi ha detto, io non sto parlando della potenza marginale. sarà marginale. Eh? La svaruva sarà marginale. La svaruva sarà marginale. Quindi questa è la faccenda del marginale. L'anima che è tatastashakti. Un po' qua, un po' là. Io sto parlando non di questo, ma sto parlando della svaruva, dell'anima. Quando l'anima cambia la forma, quando l'anima cambia la forma, in relazione può cambiare, come Gesù, cambia la forma di figlio. E allora cambia la relazione, come per esempio Gesù, che è cambiato e è arrivato alla forma di figlio. Non è una relazione di tipo genetico. Lui erano spirituali, padre e figlio spirituali. in questa forma di padre e figlio erano molto connessi, erano uno, ma non era una cosa fisica. Era una faccenda spirituale. E quindi cosa vuol dire quando l'anima cambia? Che diceva che l'anima si cambia? Hai detto qualcosa su questa forma di cambiare. Cosa vuol dire? Cambiare. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Quindi questo è tutto il suo Dice noi vogliamo sapere di faccende della nostra natura marginale, allora rimaniamo marginali, invece no, bisogna fissarsi in quella che è la nostra relazione. Se uno è felice a essere nello stato marginale, e invece un altro è felice che vuole essere nello stato spirituale. Quante cose dipendono solo dal bhajan, se uno fa bhajan non è soddisfatto di identificarsi nel marginale. Lui vuole fissarsi nello spirituale. Io voglio diventare tua madre. Io voglio diventare tua madre. Questo dovete stabilire. Se uno non si fissa su questa ricerca, allora rimane nello stato marginale. E' anche difficile da questo materiale arrivare al bhajan, allo stato del bhajan. 90% di possibilità di perdere il mio marginello, il mio sangue. Perché questo materiale mi prenderà e mi prenderà dal bhajan. Mi sembra di aver capito che... Al marginale era. Per un materialista è difficile arrivare anche al marginale. Sì. Perché la materia è così forte, ti fa dimenticare che sei un'anima marginale. che sei un'anima marginale. E' molto facile. Perché? Perché è una pratica che abbiamo fatto da tanto tempo, non solo in questa vita. Questa vita, questa vita è anche pratica. E molte vita, anche questa pratica. Anche se diventasse la nostra pratica di questa vita, poi abbiamo fatto per milioni di vite quell'altra cosa, quella di fare materialista. Io posso evolvermi solo per grazia. Noi? Come capire questa cosa? Come capire questa cosa? Solo il bhajan dà la comprensione di questa cosa. Se il bhajan è molto chiaro. Se non c'è il bhajan, niente sarà chiaro. Se non c'è il bhajan, niente sarà chiaro. We have to more and more to understand. Takes time to understand. Allora ci vuole un sacco di tempo per capire. Rade. Thank you. Grazie. I took so much time, of course. But this is the important subject, my dear. You are so elevated. You are so elevated. In this... We have to fix the stable. You see the book of Bhatti Vinod Thakur, Jaiva Dharma. You read the songs and try to go deep and understand. Suniti is a very nice singer. She comes from German. And she knows very nice songs. Morning or when is the time, I don't know, that time she can sing somebody. And peace to her also. She is very nice. Yeah. Yeah. Now she is my daughter and sister also. Wow. True relationship. Alla gottina. I am very fortunate she became my sister also. And she is very fortunate she became my sister also. So. Teach her, sing very nice. Insegnale, because she can sing very nice. Thank you. Grazie a tutti. Se ti fanno male le gambe, meglio. Così ti siedi e fai baci. Sì. 64 giri ogni giorno. Quindi tutto che vedrai, comincia a cambiare. Sì. Ho una domanda. Se non sono felice, significa che il mio guru non è felice di me e il Krishna non è felice di me? Perché... Krishna è sempre felice. Anche il guru è sempre felice. Perché... non sono felice perché ho sconnesso il mio sé dal maestro spirituale. E in questo modo io ho tagliato i ponti con Krishna. Quindi mi devo riconnettere. È come quando togli un cavo dalla spina. E allora si spegne la luce. E allora si spegne la luce. Lo stesso filo, lo stesso cavo lo infili nella spina. E allora ricomincia la luce. E le cose cambiano. La scurità cambia. E se ne va all'oscurità. Riconnettiti. Riconnettiti. Sì, ma ci puoi spiegare, Maraj, come ci si riconnette con il maestro spirituale? Guru Maraj, potresti spiegare come possiamo riconnettere con il maestro spirituale? Riconnettiti. 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 Prende il cavo e metti in la spina. E metti in la spina. Riconnettiti. E poi parlati di una scurità per il cavo. Dedi che sono sconnessi. Se uno è sconnesso, scusa se ho sbagliato, mi riconnetto con te, non posso vivere senza sconnesso. Io sono il tuo bambino, quindi al cento per cento farò errori, per forza. Se hai un bambino piccolo, se uno fa degli errori, lo sconnetti, poi gli ridai amore allo stesso mondo. Il guru è una mamma. Il bambino inizia a riuscire, non vuole parlare perché gli hai dato uno schiaffo. Però sei lì che aspetti quando lui di nuovo si rivolterà, si rivolterà e ricomincerà a parlare. Te lavori, ma intanto stai lì che sorvegli quando il bambino si rivolgerà di nuovo verso il vivente. E il maestro spirituale non è il maestro fisico. Lui non se ne va mai. Nitta lila pravista. Lui è nitta lila pravista, quindi non è mai nella forma. Lui è nitta lila pravista, quindi non è mai nella forma. Non è nella forma. Non è nella forma. Sempre è lì. Quando arriva, allora vedo. Nitta lila pravista, sempre è con te. Significa che è ok, lo vedi qualche volta, sì qualche volta no, però è sempre con te. Quando è manifesto lo vedi. Ok. Vado, venite a lila, sta sempre con te visto. È sempre con te. Sei sempre connesso. Sei sempre connesso. Non pensate mai che siete disconnessi. Non posso aggiungere più connessi, senza problemi. Ma non puoi disconnessi con le vostre connessioni. Un'altra connessione disconnessi, la tua luce non arriva. Molti fili sono lì. Ma ogni filo devi prenderlo insieme. Non puoi disconnessi. Se vuoi estendere, devi aggiungere più fili. Se vuoi estendere, allora uno deve aggiungere più filo. Ma non puoi disconnettere. Entendete? Ma non puoi disconnettere. Uno può estendere, ma non puoi andare più a maggior distanza. Non puoi disconnettere, staccare. Certo? Certo. Se vuoi usare questo filo, vuoi usare più filo. Se vuoi usare più filo, aggiungere più filo. Se vuoi usare solo questa lampadina, non vuoi usare più filo. In ogni caso la connessione viene da qui e poi va negli altri posti. Giusto o sbagliato? Il Guru Tattva non è differente dal Krishna Tattva. È Krishna stesso che si manifesta attraverso il Guru. Ma il Guru sempre dice che è un discorso. È un servizio di Krishna. È un Das. È un Kinkari. È un Radha Dasi. Non dice mai che io sono questo e questo. Il Guru però non è uno che dice che io sono questo e quello. Lui dice che io sono un servitore di Radha Rani. Sono una Kinkari. Lui si sente fortunato ad essere una Kinkari. Il Guru è sempre necessario avere un Guru vivente. Il Guru è sempre vivente con noi. Il Guru vive sempre. Se il Guru non vivente con me, come sto parlando? Dice se il Guru non fosse vivente all'interno di me. Come faccia a parlare? Io non so niente. Io sono un strumento. Io sono una box. Io sono un armonium. Il Pkurse e sta accadendo. Io sono uno strumento. Io sono un attraverso il lavoro. Io non so niente. Io non so niente, dice, e io ascolto come ascoltate voi. Anch'io sono un ascoltatore, dice Maraj. Dice, ve lo dico onestamente, siete miei fratelli. Dice, lo vedete, io con i miei discepoli mi comporto come un amico, perché non sono i miei discepoli. Sono i miei discepoli, sono i miei discepoli. Io mi comporto come un amico, perché non sono i miei discepoli, sono i miei discepoli del mio maestro spirituale. Lui fa le cose, io sono uno strumento. Sì, sì. Non hai già fatto un lungo viaggio. Sì. 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 E quindi praticamente ha detto che in tutto il giorno, oggi gli è stata, in questo momento gli è stata data la possibilità di parlare di Krishna. Questa volta ho solo ascoltato con Madhavananda, Vaishnava Maharaja. Lui era lì, c'era un po' di leggere e sto ascoltando. Perché? Preparare. E' quello che vorrei raccontare con tutti voi. Quindi sto ascoltando, apprendendo. Quindi sto imparando e cercherò di condividere con voi. Muerto. Che direi? Sì, che direi. Ah, capito che. I give you some feelings what I got today that I share. Vi posso, vi dico così, vi comunico dei sentimenti che provo. Ok. Tomorrow, any subject, some books you are looking. And from there we will read and I will try to explain what I feel from that. Dice, se avete degli argomenti che volete trarre da libri, da qualsiasi libro che portate, me li sottoponete e io vi dico qual è il mio sentimento a proposito. Dice e allora se volete conoscere. Dice, come volete. Dice, come volete. Dice, come volete. Però se volete conoscere? Ragavatti say, se li sottoponete, però, ecco, se volete conoscere, portate libri di Pravpen. O di Narayan Maharaj. O Shidhar Maharaj, che Maraj dice che li sente di più, qualsiasi cosa voi selezionate va bene. Che uno può fare così, che uno porta al basso, legge e il Guru Maraj cerca di commentare.